oh come nuoti in fretta scatto guarda cosa abbiamo trovato si siamo entrati in un relitto era paurosissimo roba degli umani è su fate un po' vedere guardate qui wow siete stati fortunati è una cosa molto particolare sul serio che cos'è è un autentico riccia spiccia gli umani usano questi gingillini per sistemarsi i capelli vedi basta metterlo qui farlo girare darle uno strattone viola ecco in un batter d'occhio un'acconciatura alla moda esteticamente graziosa di cui le creature umane non possono farne a meno una riccia spiccia e questo che cos'è questo non mi dico erano anni che non avevo l'occasione di vederne uno così ben fatto è un raro esemplare il soffio blabla allora il soffio blabla risale all'epoca preisterica quando le creature umane se ne stavano sedute a fissarsi negli occhi tutto il giorno immagina la noia e così hanno inventato questo soffio blabla per fare della bella musica ho il concerto povera me mio padre mi ucciderà il concerto era oggi forse potresti usarlo come fioriera oppure me lo dirai un'altra volta devo scappare grazie scuttle è stato un piacere tesoro è stato un piacere tesoro